Allora, rivelazione per messa a dimora dei pali intermedie di destata per l'impianto di un nuovo vigneto, anno 2023. La rivelazione per i pali intermedie è a 60 centimetri, adesso abbiamo trovato la pietra. Le basi di ancoraggio vengono messi col calcestruzzo nei fori e il tirante in ferro. Ecco, su YouTube la mamma è, su YouTube. Ecco, tiranti. Iniziamo a si vedevano gas. Com'è l'azienda Giovanni? Come si chiama l'azienda? Che faccio pubblicità? L'azienda Giovanni Lomartire SS Agricola. Abbiamo l'azienda Giovanni Lomartire SS Agricola di Sava. La pulizia dei fori. Abbiamo l'azienda Giovanni Lomartire SS Agricola di Sava. Sto facendo pubblicità. L'azienda Lomartire SS Agricola di Sava. Che non metti sopra il video, non ti ho preso il video di stop, non ti ho preso il video di stop, non ti ho preso il video di stop. No, non lo tengo quello. Lempiamo i fori per i tiranti. Sono i tiranti? Sì, no? Le briglie. Le briglie, le briglie. Un metro di profondità. No, non ti ho preso il video di stop, non ti ho preso il video di stop. No, non ti ho preso il video di stop. No, non ti ho preso il video di stop.